Che le marche cialino ancora tesori è noto a tutti, ma che potesse avvenire una scoperta così particolare se lo aspettavano in pochi. Nella splendida cornice di Fano sono stati riportati alla luce quelli che si credono essere i resti della Basilica di Vitruvio, architetto e scrittore romano, che ne parlò nel quinto libro del suo d'architettura. Stando a quanto riportano gli scritti, la Basilica sorgeva nella colonia Julia Fanestris di epoca augustea, affacciata sul foro della città romana, proprio dove oggi c'è Fano. I resti di un imponente edificio, che è un unicum del mondo romano, sono stati individuati da circa un paio di settimane durante alcuni scavi condotti dalla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Ancona, Pesaro e Urbino. E secondo l'ipotesi più accreditata, alla quale stanno lavorando archeologi e restauratori, sembra proprio essere quel che rimane della Basilica di Vitruvio. Siamo comunque sempre parlando di ipotesi ricostruttive, che troveranno confermo nel momento in cui andremo avanti con le indagini di scavo. Si tratta di un complesso costituito da almeno cinque ambienti, i cui muri, conservati in alzato per circa due metri, hanno lo spessore di un metro e cinquanta e sono rivestiti in malta di calce e lastre di marmo. Le pavimentazioni degli ambienti sono in marmi di importazione, di colore verde e rosato. Vista la storia e visto quanto descritto nel De Architetture, non lo possiamo escludere ma ci speriamo. Ovviamente è troppo presto per dire con sicurezza che sia la Basilica di Vitruvio. Di certo è che si tratta di un grosso ritrovamento di un edificio pubblico. Tra le varie meraviglie è stato ritrovato anche un frammento di iscrizione su marmo che riporta le lettere V e I con tracce di campitura in rosso. Stando all'analisi condotte fino a questo momento, l'edificio si data a cavallo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo e sembra essere stato frequentato anche in età medievale. Quello che possiamo dire è che ci stiamo muovendo per reperire risorse adeguate, per poter ampliare le indagini, quindi quantomeno capire esattamente quello che per ora vediamo soltanto in parte.